Salve a tutti ragazzi belli e brutti e miscritti più di tutti Oggi sono qui a presentarvi la demo di Dragon Ball Z Battle of Z Per me è un'emozione provare questa demo Perché io sono un patito di Dragon Ball E' un'ottima alternativa al solito FIFA Che ogni tanto scoccia Sto provando insieme a voi questa demo Non so neanche io com'è veramente Non ho mai visto un'immagine o un video di questa demo E vedremo com'è L'ultimo gioco Dragon Ball Z Dragon Ball Z come cazzo si chiama Ultimate Tenkaichi Faceva schifo non mi piaceva Invece gli altri Budoket Tenkaichi 1,2,3 erano proprio belli Mamma mia super volume Creiamo subito dei dati Mamma mia che emozione Questo gioco me lo comprerò Ci farò le partite sicuramente A me piace come gioco Cos'è sta cosa mo' Cos'è sta cosa mo' Cos'è sta cosa Ah l'energia sferica Sferica Mamma mia che emozione L'energia sferica Quale l'America del Nord Beh ma devo fare il giro del pianeta Giocatore singolo Modalità battaglia Coppa addirittura Giocatore singolo Vediamo Che cazzo si fa Giocatore singolo Giocatore singolo C'è una missione selezione inizio Mission Deserto Distruggi tutti i nemici Goku Goku È solo Goku sta Cazzo devo fare Inizio Sì iniziamo la mission Caricamento Ehi ciao nonno Invece di andare in app La sua fotone di difesa Per guardia Gli permette di resistere a qualsiasi attacco E quindi Grafica Discretamente buona Migliore rispetto agli altri Vediamo Voglio vedere proprio la giocabilità Non tanto mi piace Come appare ora Vediamo come Così è buono Questo Mi piace Dove devo andare Il movimento Davvero uno scarto E no Così questi voto Bellissimo Andiamo Andiamo a vedere chi è Chi sono questi brutti esseri Ehi ciao belli Quindi la forza Prevenendo da questi rizi Meglio liberarsi di dopo Prima che creano problema Vado subito ad ucciderli Tieni questo Tieni questo Tieni questo Tieni questo Tieni questo Per un colpo di mischio Per un colpo di distanza Siete venuto Per parà Tieni questo Tieni questo Tieni questo Tieni questo Tieni muori Tieni muori Tieni muori Tieni muori Muori Tieni mi faccio vedere E te Tieni povertà Tieni 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 Adesso ho una fame Sarà meglio tornare a casa Andiamo a casa Andiamo a casa Altri Muori 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 Bellissimo Un colpo a impatto Vuoi prendermi per un inseguimento Ia Vieni qua Può Scush Pam Muori Muori Muore Onda energetica Muore Onda energetica Onda energetica Vieni qua Ti faccio vedere io Chi sono Io sono Goku Onda energetica Altri nemici Veni qua Ia Ia Kaio Ken Pam Kaio Ken Kaio Ken Bellissimo Mamma mia bellissima sta demo Non vedo che esce proprio il gioco Che non so manco quando esce veramente A me è sempre piaciuto Dragon Ball Tutti i Dragon Ball Tra l'altro l'ultimo L'altro mettete in caccia Faceva schifo Mamma mia Comando collezione carte sbocca Comando registro partita sbocca Ho già dei dati in corso Non spegnere il sistema Playstation 3 Bellissimo Accolta di carte Sembra che tu abbia ricevuto una carta Scopri qual è una collezione carte Utilizzo carte Tipo gli orecchini Registro carte Allora Registro Personale Dov'è Dov'è Collezione carte Vediamo Che carta ho avuto Potenza attacco aura Più 15 Più 10 Very nice Registro partita Registratore partita Registro Collezione la carta Vediamo Vediamo Ok Vabbè andiamo a missione Missione Aha Creely Ciao Creely No io è Goku Collezione carte Vediamo Vediamo Un poco Vediamo Vediamo Un poco Cosa si può Fare Vabbè non me ne frega niente Info personaggi Prevedere una mission Mamma mia quanti personaggi Mostra meno Info personaggio Personalizza Dov'è Ecco qui Li mettiamo Tutte e due Lo rendiamo Un mostro Mamma mia Conferma Conferma Iniziamo Iniziamo Vai Goku Kaioken Spacca tutto Ciao genio Mi saluto Significa Un aumento DPS Sarai in grado Di resistere a molti attacchi Very very nice Very very nice Thank you so much Quanto sta durando Sono solo dieci minuti Che fa Che fa Che sono dieci minuti Per un bellissimo gioco Come questo La grafica Vabbè non è Delle eccezionali Però È la giocabilità Che mi piace È ritornata Quella di una volta Very very nice Choice Dai Crelli Andiamo all'attacco Di questi ciuffetti Blu Celesti Zizi Zizi Kaio Ken Ra Kaio Ken Muori Morto Onda energetica Vieni qua È morto Vieni qua Vieni qua Pam 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 Vieni qua Kaio Ken Fustizia Morto Onda energetica Vieni qua Vieni qua Cario can! Bam! Dove sono i miei nemici? Caio can! Papatatatatatatatatatatatata! Tatatatatatatatatat! Me! Onda energetica! Shealata! Bam! Onda energetica! Bam! Pababababam PAM Altri nemici Kaio Ken Kaio Ken PAM Andate via PAM Pabababam PAM 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 Onda energetica Mori Kaio Ken Meh Questo non lo dovevi fare Kaio Ken Vieni qua Sparisci Chi è? Chi sta arrivando? Chi è questo mio avversario? Chi è? Chi è? Radish Morirai Kaio Ken Kaio Ken Muori Muori Radish Bam Onda energetica Onda energetica Onda energetica Kaio Ken Onda energetica Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Bam Pam Che è successo Che è successo mo? Che è successo mo? Che è successo mo? Sei stanco Goku? Muori Sei stanco Goku Muori Muori E che fai Krillin Mi attacchi E sei un coglione Sei un coglione Ti do tante di quelle mazzate Fratello E si fanno queste cose Onda energetica Onda energetica Vai Muori Radish Non posso credere Che questi vermi Avano potuto farmi questo Si Già l'hai fatto Goku Yeah Grazie Per l'aiuto Krillin Missione compiuta Grande Quindi ragazzi Questo video È durato anche troppo Vi saluto Vi ringrazio Per l'averlo visto Forse oggi Carico già La seconda parte Del video Ma non serve Perché Avete capito Un po' Com'è questo gioco Quindi ragazzi L'episodio Speciale Sulla demo Di Dragon Ball Z Battle of Z Di oggi si conclude Mi raccomando Se questo vi è piaciuto Lasciate un mi garba Iscrivetevi al canale Commentate Mi raccomando Nuovi video Vi aspetta Ciao Mi raccomando 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 Mi raccomando